In provincia sono 1140 gli alloggi dell'Ater di Teramo danneggiati dagli ultimi eventi sismici, di cui 845 sgomberati e ubicati per la quasi totalità nel quartiere teramano di Colle Atterrato. Le cifre spaventano. Sono 500 le famiglie fuori casa e serviranno circa 70 milioni di euro per ricostruire il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater di Teramo che ha subito danni dal terremoto. Dati, stime e cronoprogramma sulle procedure tecniche di ricostruzione sono stati annunciati ufficialmente dall'ente terramano alla cittadinanza. Restano però forti le perplessità di come sia stato possibile che anche i 32 alloggi popolari, sempre a Colle Atterrato, costruiti nel 2013 con tutti i criteri antisismici, si siano anch'essi lesionati. Dottor Rampini, ma com'è possibile che delle case del 2013 costruite con sistemi antisismici siano scoppiate letteralmente? Beh, scoppiate letteralmente no, perché comunque abbiamo fatto fare una verifica di vulnerabilità sismica dai tecnici incaricati che ci hanno riconsegnato giorni fa i risultati. Quindi dal punto di vista della struttura è sicura, secondo l'ultima normativa del 2008, è adeguata. L'unico problema è che le parti non strutturali non sono, non è stato eseguito in sintonia con la struttura, quindi ha creato dei problemi per le parti non strutturali, che comunque a breve provvederemo subito alla riparazione. Quanto spenderete per riaggiustare questi alloggi? Una stima adesso si parla dai 300 ai 400 mila euro. Secondo voi queste case sono state costruite bene? Noi ci chiediamo come voi, visto che all'incirca il 50% di tutti i sgomberi risultano ater, pure noi ci chiediamo come cittadini, ma è possibile che tra case private e case ater, praticamente la grande maggioranza sono case ater. Ma le case sono state costruite bene? Io l'ho detto, per quanto riguarda i risultati, supera lo stato limite della vita, supera l'1, l'1, il 18 mi hanno detto. Siccome la casa tua è piccoli lavori esterni, in 20 giorni, un mese rientra a casa. E invece? Invece sono uscito il 14 gennaio, ieri era il 14, sono sei mesi. Quando rientreranno le persone dentro casa? Per quanto riguarda i 32 alloggi sarà il primo appalto che faremo, quindi appena l'ufficio della ricostruzione ci approverà il progetto, noi possiamo procedere all'appalto dei lavori.